E esclude che magari Vannacci all'Europa possa candidarsi con il suo partito? Non ne ho idea, non mi occupo del futuro di Vannacci, io mi occupo del futuro del Paese e delle Forze Armate. Vannacci ha chiesto di parlarmi, gli ho parlato, ho detto a lui quello che pensavo, ho ascoltato come è giusto fare quello che lui doveva dirmi, ma Vannacci è uno delle 300.000 persone che costituiscono la difesa e a cui il Ministro deve serietà di risposte e unicità. Però la cosa che mi ha colpito in questa storia è che Giorgia Meloni sta zitta, non è che lei ha dei problemi all'interno dei Fratelli d'Italia? Donzelli nell'intervista di cui lei parla dice che il Ministro ha fatto bene e ha completamente ragione. Giorgia Meloni ha cose più importanti di cui occuparsi da Presidente del Consiglio, che non è il problema di Vannacci per il Ministro dei Vesi.